Ebbene sì, come molti consolini ovviamente già sapranno, siamo stati invitati a partecipare alla nuova stagione della Pixel, ma noi siamo felicissimi Non potevamo ovviamente dire di no, è una serie che abbiamo sempre seguito con molto interesse e quindi siamo stati davvero contenti di essere stati invitati a partecipare Esattamente, è una di quelle serie che ci è sempre piaciuta tantissimo, quindi siamo felici di farne parte In questo momento state semplicemente vedendo tutti i giocatori che faranno parte di questa serie e che stanno mostrando il Pokémon che hanno scelto come starter Troverete la lista degli youtuber sotto a questo video, quindi se volete andare a vedere chi tutto c'è andate lì e direi Fede che siamo pronti ad iniziare Sì, non vedo l'ora Fra poco vi mostreremo che starter abbiamo scelto noi E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E sono Stef, che si chiama Minecraft E benvenuti nel nostro primo episodio della Pixelmon, Stef, sei pronto? Sono prontissimo Alla nostra nuova avventura, vai Tre, due, uno, il mio Pokémon No, che poi litigano, aspetta Aspetta, aspetta, aspetta No, uno alla volta, uno alla volta, Stef Ciao, ma quanto sei bello, ma quanto sei bello Non iniziare a fare le vocine Lo so che si aspettavano tutti sin da qui Però non so perché Ferin mi son sentito questo Tottenham così dal cuore L'ho visto, ho sentito il bisogno di prendere a lui questa volta E la cosa strana è che tu solitamente scegli sempre Pokémon di fuoco come me E ovviamente litighiamo sempre sullo Starter Allora, voglio prenderne uno d'acqua Però vorrei che tu giustificassi la tua scelta Perché è una scelta un po' strana, Ferin Allora, aspetta Prima lo faccio vedere Dopo che lo faccio vedere non avrò più bisogno di giustificarmi, scusa Stef Non avrò più bisogno Ok Perché è puccioso Ma poi diventa una specie di wrestler gigantissimo Così enorme, pronta a combattere Quindi immagina quanto io potrò fare paura nella serie, Stef Io dovevo essere minacciosa, capito? Devono vedere il mio Pokémon È voluto spaventarsi tutti Non ti voglio giudicare Ma perché? Questi sono i nostri due Pokémon Starter Allora, in questo primo episodio Non vogliamo andare a catturare Pokémon Perché la Pixelmon la vogliamo prendere in un modo un po' strano Per noi diciamo che la Pixelmon Non è tanto un mondo dove ci sono soltanto i Pokémon Ma è proprio una sorta di mondo online Dove ci sono appunto tanti altri giocatori Dove vogliamo vivere dentro Quindi vogliamo esplorare il mondo Vogliamo andare a cercare cose segrete Vogliamo costruire una bella casa Vogliamo fare tantissime cose E i Pokémon che prenderemo Non ne vorrei tanti fare Non vorrei collezionarli tutti Vorrei più prenderne pochi ma buoni Quando senti proprio l'amore interiore Capito? Ma allora lì è difficile Perché io lo sentivo con tutto Deve essere il colpo di fulmine Lo so, allora io solitamente Ti metto le catene così non puoi dire le Pokémon Volevo proprio dire che inizio a catturare proprio a profusione La so, la so Anche te catturerei Puoi avere qualcosa in più Gli altri allenatori Tutto, tutto, tutto Però anch'io penso che punterò a farmi una bella squadra Perché poi ovviamente ci saranno tutte le lotte Esatto Devi essere pronto a fronteggiare gli altri Giusto? Dimmi Andiamo a far vedere dove è la nostra casetta Sì, vai C'è un bel po' di gente online in questo momento Fere, non so se hai notato Allora mi hanno detto che ci hanno lasciato una sorpresa nella nostra casetta Ok Ok, però io non mi ricordo bene dove è la nostra casetta Quindi per ora continuiamo a correre Neanche io vi sto perdendo Dovrebbe essere da queste parti Che vergogna Però dai Che già ci stiamo dimenticando Dove abbiamo la casa Steph Ma che inizio è? Scusami È difficile È qui Allora Steph e Fere Vi avevo visto un po' nel panico per l'inizio Ecco un regalo Questo è Mark Aspetta Fai vedere Che ci ha lasciato Mark Una Pokéball Fere Una Pokéball Ma che bello Grazie Allora Ascoltami Guardami faccia Uno di noi due Potrà controllare il suo primo Pokémon oggi Perché abbiamo una sola Pokéball Ok Sceglieremo In base a chi verrà conquistato di più da un Pokémon dopo Ok 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 No, sarà difficile Perché questo Ok, sì Che è un regalo Però ci porta a litigare Steph Non so se l'ha fatta apposta Non lo so Non lo so Nel ogni caso Gratimile Mark Ed è pure appena entrato nel server Esatto Voleva solo essere gentile Allora Lo so Questo è il posto dove noi faremo la nostra casa Sono già indeciso su una cosa Se fare una casa O due case Perché ogni YouTuber avrà la propria casa Sì Noi siamo in due Quindi sono indeciso se farne una unica o se farne due E mettiamo un sondaggio Perché tanto questo oggi non iniziamo a costruirla Perché vogliamo fare qualcosa di bello e di possente Quindi votate il sondaggio e decidete voi Se faremo una o due case Vedremo un pochettino il destino in mano ai consolini Fere Ci sta salutando Mark Ciao Mark Ciao Ma quanto scatto ogni tanto io Guarda Te ne ha regalato una anche a te Ti ho dato una a Duskball Ne possiamo prendere una testa Grazie Mark Ma che cosa non litighiamo più Che bello Che bello Sono tutti stra gentili con noi Perché siamo Ho capito I novizi Quelli che ancora non stanno fare E vabbè Ma siete troppo gentili Questa è mia Grazie Federico Oh mio Dio Allora Federico sarà importantissimo Fere Perché lui è un esperto di Pokémon Secondo me lo dobbiamo puntare Perché lui è l'esperto Quindi ci può insegnare un sacco di cose Ne abbiamo bisogno Perché quando dovremo iniziare ad avere una squadra forte Ci servirà In ogni caso Fere Io direi che è il momento di iniziare ad allontanarci un po' Perché non voglio andare a prendere materiali Dalla zona vicina al villaggio Perché non voglio disuggerli alberi Esatto Non lo voglio rovinare neanch'io Quindi ci tocca pedalare un pochettino Allontanarci E iniziare a cercare qualcosa di carino Ci serve ovviamente legna Ci serve ovviamente cobblestone Tante cose Ci serve tutto quello che serve in una vanilla Dopodiché le ghicocche Fere si dice ghicocche? Eh sì Io direi che siamo già abbastanza lontani Secondo te? Sì Penso di sì Che possiamo utilizzare abbastanza questa foresta Allora iniziamo a prenderci un pochettino di legna Fere Hai notato che gli alberi sono leggermente tondeggianti? Sì Perché è pieno di mod che migliorano a livello grafico il mondo Perché appunto non sarà solo un posto dove noi prendiamo dei pokemon Ma deve essere proprio un mondo vivo Meraviglioso E questi alberi aiutano tantissimo Ferettina Dimmi Ho fatto il crafting table Oh bravissimo Iniziamo a fare un po' di utensili Anche perché ho notato che abbiamo della pietra qua vicino Quindi ci possiamo iniziare già a fare gli utensili in pietra Io sai che faccio Stef? Mi comporto bene e ripianto anche gli alberelli va? Addirittura E li ho trovati perché così si evita di disboscare Ma qui stiamo esagerando No bisogna pensare all'ambiente Io li ripianto Allora Guarda Guarda chi fa cose utili invece al posto tuo Tieni E tieni Quando ci saranno sempre alberi pronti da tagliare mi ringrazierai Stef Va bene Va bene Ok Allora fammi prendere un pochettino di pietra qui Che ci serve assolutamente Così iniziamo a farci Picone La spada non credo che ci serva Quindi direi Picone e accetta in pietra E a quel punto io andrei anche a cercare qualche miniera per iniziare a cercare del ferro Perché Con solini per fare le pokeball ci servono Appunto le ghicocche dei vari colori in base alla pokeball che vogliamo creare Ma appunto ci serve anche del ferro per crearle Quindi È molto importante da trovare E direi che se riusciamo a trovarne almeno un pochettino già oggi non è male Questo pg lo posso affrontare Ok Allora Fight Allora Vado Scratch Vai Io sto rischiando eh Perché è un livello 10 contro un livello 5 Ho fatto un critico e gli ho tolto pochissimo Però io non credo di potercela fare Quello che tu hai a fianco che livello è? Non lo so Sto guardando un attimino la tua battaglia Perché ho scoperto che c'è la possibilità di osservarti Quindi vedo quello che vedi tu È bellissimo Sì ma lo sto godendo Sto morto di sicuro Sapevo che era difficile all'inizio Perché praticamente è difficile trovare dei pokemon di livello basso Però dannazione Bene Ma 38 no No Mi hanno sconfitto il mio toto dai Lo so lo so Adesso devo andare a portarla a curare Questo 9 forse ce la puoi fare Io ci provo Ci vuoi provare? Io ci provo Sì Ci ho provato Perché so benissimo quanto è difficile trovare un pokemon ancora più basso di quei livelli L'inizio è un po' tosto Quindi bisogna Bisogna avere pazienza Vabbè e quando torniamo al villaggio li curiamo Per ora niente pokemon Facciamo finta di essere in vanilla Fere così Va tutto meglio Steph chi è quel gigante? Infatti mi sta avvicinando No non ti avvicina che poi ti Vabbè intanto non abbiamo un pokemon Salve Buongiorno Livello 41 Oh mamma mia Lei mi sembra Io lo voglio in squadra Vedi quando ti parlavo del colpo di fulmine Bellissimo Ce l'ho già avuto con lui Ma secondo te questa è di chi è? No è di qualcuno Ma È vero? Aspetta siamo un po' troppo lontani C'è davvero qualcuno che si è fatto una casata di lontano Sì perché secondo me pur di nasconderle Le hanno messe lontane Questa è da sola Questa è nostra Questa è da sola e la prendiamo L'hai presa? No non l'hai presa tu Io l'ho vista scomparire Sì l'ho presa io Ah ok perfetto Non voglio fare l'infame Cioè magari più in là Ferre ma ricrescono tanto Smettila Steph Qualcuna Smettila Qualcuna Ferre dai Smettila Ci servono fanno comodo Non ne abbiamo trovato in giro Mi ha preso poche 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 Ferre Giusto? Allora io spero per te Steph Cioè di chiunque siano che ricrescano Sì 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 ricrescono Ricrescono tranquilla Questa è proprio la casa di qualcuno La casa momentanea di qualcuno Certo certo Di chi è? Di chi è? Non lo so vediamo su un cartello E di Tyrless Ciao Tyrless E probabilmente allora questa farm è sua Questa qui dietro E chissà di chi era quella Vabbè Eh non lo so Però ti sei comportato male Non è vero Ferre Ho preso in prestito E le restituo Nel caso è colpa tua e non c'entro niente Ah ma siamo più vicini del previsto al villaggio Guarda siamo già tornati Ah sì abbiamo fatto il giro Abbiamo fatto il giro Meno male così ci possiamo correre i Pokémon Però teoricamente questa qui è un allenatore di livello 4 Quindi Eh sì Teoricamente Oh mio Dio Slowpoke livello 3 Ok vai 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 Questo la batto per forza Ce la puoi fare No Ok Lo spero Gli ho dato una bella sberla Lui mi ha mancato Ok Ce la faccio Dai vai 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 È un livello 3 Ma poi secondo te la posso fare anche io Dovrò aspettare Dovrò aspettare No mi sa che devi aspettare al giorno dopo Ferre Noia però Tu te ne ha fortuna e tu qua Il prossimo è mio Però l'ho vista per primo Quindi è giusto così Sconfitto Ovviamente ne ha un altro Non hai guardato quanti ne ha Non me l'aspettavo Sono salito a livello 6 Sono salito a livello 6 Ho sbloccato water gun Però non capisco contro chi sono Uno ho buttato giù L'altro no Però Teoricamente Si è salito Adesso la puoi affrontare tu E poi comunque sono salito a livello 6 Vediamo che fa Quindi il mio caro Tottenham Almeno uno l'ha sconfitto Te li ridi da entrambi? Sì 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 Slowpoke Perché non sono riuscito a sconfiggerla Esatto Perfetto Così almeno un pochettino di esperienza Riuscirò Spero a farmela anche io Se non mi uccide Sai cosa faccio? Mentre combatti quello ti mollo E vado a curarmi il mio Tottenham Perché non lo posso vedere di nuovo sofferente Ho trovato anche una ghicocca Oh Perfetto Quello ho trovato Quella rosa Altra ghicocca Quella blu Ne stiamo iniziando a trovare Ne stiamo iniziando a trovare Consolini Sta iniziando ad andare tutto meglio Però mi sono un po' perso Alleluia Se l'ho fatta Dove eri finito? Boh mi ero perso È difficile da ritrovare il villaggio Ferre Comunque io nel frattempo Steph che tu tornavi E ci hai messo una vita Sono arrivata al livello 8 Ho trovato un fanfi di livello 7 L'ho sconfitto E sono ulteriormente salita Ma non ti vergogni Ferre Allora però Però visto che Che sapevo Che tu ci saresti rimasto male Ok Ho visto qui in zona Un pokemon di livello 5 Se vuolo puoi sfidare Sì Ferre Vieni vieni Allora io ti volevo dire Che ho trovato tantissime ghicocche Ne ho preso davvero tante E guarda che cosa ho preso Visto che c'ero Ok 12 di carbone Ferre Questo ci farà un sacco comodo Perché per fare le ghicocche Ovviamente dobbiamo mettere le fornaci in funzione Quindi il carbone è fondamentale Dov'era il pokemon? Vieni Vieni Questa qui? Sì questo qui davanti Livello 6 Vai 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 Vado? Sì Ok Allora Water gun Potentissimo Spaccali la faccia Eh Non male Non male Un po' di danno glielo ho fatto Per ora comunque Steph Non è che possiamo trovare No no Ferre Lo sto distruggendo Ok Il mio totale Diciamo il pokemon perfetto Perché quelli che trovi bastidi Deve Lo massacro Attenzione Questo nel caso sarà il mio primo pokemon Selvatico distrutto E ce l'ho fatta Finalmente Benissimo Benissimo Ma sai che sono arrivato a livello 8? Bravo Mi ha dato anche due bistecchine E due di leather E so A me invece Prima Fanfi Mi ha dato uno di leather E uno di stone Ok allora La leather conservatela Perché so che esiste uno zaino Molto utile Che ci possiamo craftare Più avanti Conserverò Quindi il leather è fondamentale Allora qua c'è un 22 Un 19 Qua c'è un 7 Steph Se te lo vuoi fare anche questo Davvero? Però ho trovato un PJ livello 9 È una sfida difficile 9 contro 9 Mi sta dando belle sberle Ok Chi attacca per prima adesso vince Uno di vita per me Ok ce l'ho fatta Uh uno dish di livello 5 Questo è perfetto Perché io sono anche super efficace Eh sì Quello è stra facile Ok Ferri chiudi tutto Guarda che belline Vi viste che carine che sono Quando sono piccole Tantissimo Sì sono stra carine Ci metteranno un po' a crescere Però ne varrà la pena Perché inizieremo a farci Un sacco di pokeball E a quel punto Potremo catturare tantissimi Pokemon Oh non vedo l'ora Non vedo l'ora Io ho già scelto uno di quelli che voglio Ok ho messo il cancello Da questa parte guarda Ok perfetto Ti hai scelto scusa Non ti ho scelto Shytr Fere È uno dei miei pokemon preferiti In assoluto Eh io non lo so Io ho visto uno selvatico Non lo so Ma è a livello 30 Quindi ho dovuto A scelperdere Allora perché ne ho visto Tanti selvatici belli Però non sono ancora Convintissima di nessuno Quindi vedrò un po' Man mano Che andiamo avanti Piantagione Di Steph Fere Fere In ogni caso Ci fermiamo così Per questo primo video Allora Secondo me non siamo andati male Abbiamo fatto salire un pochettino I nostri pokemon Abbiamo preparato una piccola Piantagione di ghicocche Abbiamo preparato anche un pochettino I fornaci Perché dovremmo fare tantissime Pokemon Quindi ci serviranno davvero Tante 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 fornaci Nel prossimo episodio Fare per forza Dobbiamo catturare il nostro primo pokemon Sì E appunto io vorrei qualcosa Che può volare Perché ci serve andare in giro volando Quindi nei commenti Consigliateci qualche pokemon Che secondo voi È molto molto buono Ovviamente è qualcosa Che può essere fattibile Da prendere Perché come avete visto I nostri pokemon Non sono ancora fortissimi In ogni caso Speriamo che questo primo video Vi sia piaciuto E ci fermiamo così Bene ragazzi Se vi è deciso è tutto Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che avete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao